ti prego non mi cuocere il piccione è calda? no adesso sta tornando fredda ok anche lui vuole fare il bagnetto che carini cosa fa beve lo beve se vuoi farti il bagno devi scendere dove c'è l'acqua lui fatti coraggio scendere dove c'è l'acqua anche se c'è un piccione ciccione in ammollo tira su la scella occhio alla scella tira su bene rio lo intaglieti dal cellulare che non vedo niente oddio c'hai il cellulare a prova d'acqua non lo so non credo la videocamera stimo il cellulare oh mio dio zuppo